buongiorno e bentrovati a tutti oggi vedremo come funziona il motore di un veicolo elettrico che si tratti semplicemente di un e-bike piuttosto che di una tesla piuttosto che di un monopattino la tecnologia che c'è dietro è sempre la stessa quindi se volete scoprire cosa comuna una tesla ad una e bike piuttosto che un monopattino non vi resta che mettere like iscrivervi al canale attivare la campanellina grazie quello che vedete è un motore o di induzione cioè un motore senza spazzole a corrente continua ovvero brushless direct current motor questo tipo di motore accomuna questi tre veicoli e l'unica cosa che cambia ovviamente sono le dimensioni e il vattaggio questo motore necessita per poter funzionare di un'alimentazione particolare fornita dal cosiddetto controller o anche inverter per i veicoli elettrici di grandi dimensioni nel caso di un e-bike il controller è costituito semplicemente da una scatoletta contenente un circuito elettronico caratterizzato per tensione di alimentazione e vattaggio il motore ad induzione non è altro che un perno centrale cosiddetto rotore costituito da magneti permanenti cioè da calamite immerso in un campo elettromagnetico generato da elettro calamite comandate dal controller cioè dall'inverter appunto attivando sequenzialmente ciascuna di queste calamite raggruppate a 3 a 3 in maniera sfasata di 120 gradi con segnali opportuni quindi polarizzando direttamente o inversamente ciascuna calamita si potrà generare l'attrazione o la repulsione del perno centrale di conseguenza il movimento delle cosiddetto rotore in alcuni casi il rotore è posto all'esterno ma il risultato non cambia l'elettro calamite attraendo respingendo sequenzialmente le calamite poste in maniera da avere dei poli sequenzialmente opposti verranno comunque respinte o attratte e genereranno il moto necessario per generare tutti questi segnali sfalsati di 120 gradi necessari per attivare il motore trefasi a induzione sarà chiaramente necessario tutta un elettronica particolare gestita da un microcontrollore e che sarà contenuto appunto nel cosiddetto controller inverter posto nelle immediate vicinanze del motore lo schema seguente rappresenta indicativamente il controllo di un motore induzione abbiamo un microprocessore sulla sinistra che governa tutti gli impulsi che vengono amplificati da un gate driver che serve per comandare il gate dei vari mosfet il mosfet a canale p o n non è altro che un componente elettronico che funge da interruttore e collega il drainer source tra loro sulla base di una debole tensione presentata sul gate che può essere positiva e avremo un mosfet a canale p o negativa e avremo un mosfet a canale n mosfet che sono accoppiati a ciascuna fase a 2 a 2 ognuna delle bobine degli avvolgimenti dell'elettro calamite potrà essere collegata al positivo o al negativo a seconda della fase in cui ci troviamo per attrarre o respingere il polo del magnete permanente presente sul rotore che sia esterno o interno poco importa inoltre per conoscere la esatta posizione del rotore e quindi dare il corretto impulso a ciascuna fase nello spostamento sarà opportuno conoscere la posizione del rotore attraverso dei sensori cosiddetti sensori di hall che sono montati sullo stesso statore del motore che permettono di rilevare il campo elettromagnetico di ciascuna calamita e così facendo informeranno il microprocessore della posizione del rotore rispetto alle elettro calamite connettore che vedete in figura contiene proprio il collegamento a cinque pin ai sensori di hall che vanno verso il controller verso la centralina abbiamo il positivo e il negativo cinque volte per l'alimentazione in parallelo dei tre sensori e i pin 1 2 3 relativi a ognuno dei tre sensori che servono da feedback verso il microprocessore per conoscere la posizione del rotore rispetto allo statore il filo più grande giallo blu e verde sono l'attivazione dell'elettro calamite che poste sequenzialmente l'una dopo l'altra attivano il moto del rotore ad una frequenza di migliaia di cicli al secondo i connettori che escono dal controller per il comando delle tre fasi sono spesso denominate u v e w sono cavi di colore diverso abbastanza spessi a questo punto andiamo a vedere quali sono i collegamenti di un comune controller di una e bike o di un monopattino in alto a destra trovate il positivo e negativo della batteria cioè 36 volt 42 volte quindi l'alimentazione di tutto il circuito il secondo connettore in basso è il connettore per il sensore di all che vanno al motore il terzo è dato dalle luci posteriori o anteriori il quarto i segnali che servono per l'acceleratore e il freno e il controllo di pedalata assistita eventuale per le bike e gli ultimi tre connettori sono le tre fasi che vanno al motore chiaramente per un veicolo elettrico il controller sarà molto più grande ma comunque vedete che ci sono i tre cavi delle fasi che escono bene amici a questo punto io vi invito a mettere like iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e vi preannuncio che in un prossimo video vedremo come funziona con uno schema elettrico reale un controller e cercheremo di fare l'analisi la diagnosi di un potenziale guasto di un controller di un monopattino e quindi vi do appuntamento a un mio prossimo video vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima